Abbiamo fatto una campagna elettorale con un messaggio chiaro, nessuno deve rimanere indietro, ripartiamo dalle periferie. Il Movimento 5 Stelle Toscano è stato a Cinigiano, in provincia di Grosseto, un comune montano dell'area sud della Toscana, che ha bisogno del nostro aiuto e oggi presentiamo un atto in linea con quanto abbiamo proposto e promesso nella visita in quel territorio. I cittadini del Comune di Cinigiano sono molto preoccupati per un costo insostenibile delle bollette del GPL, questo gas liquido che serve per scaldare le abitazioni. Con questo atto noi chiediamo che venga fatto al più presto un tavolo istituzionale comune di Cinigiano, Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, per risolvere questo problema. Da anni è esistente una rete di distribuzione che necessita almeno che venga utilizzata per la distribuzione di metano che ha un costo inferiore e in ogni caso che almeno il costo del GPL venga allineato ai costi di tutta la provincia di Grosseto. Grazie a tutti.